Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video del canale. Oggi, continuando la wave dei mazzi con cui mi sto divertendo in questo periodo, vi porto Infernoide Lair. Dunque, che cosa fa Infernoide Lair? È un mazzo che punta ad andare per secondo, quindi blind second, e che punta a smontare la board dell'avversario e, se riesce, nel frattempo fa anche OTK. Dunque, è un seno mazzo un po' desueto in questo periodo, vi parlerò un po' più nel dettaglio dei mostri, quindi cominciamo dagli Infernoide, giochiamo tra Decatron, un Antra, due Armadick, o un po' Trulia per i piccoli, un Siete, due Seizemas e una Tondel per i Medi, diciamo, e due Deviati, due Onuncu per i Ciccioni. Allora, parliamo un po' nel dettaglio di che cosa sono gli Infernoide. Sono tutti mostri Demone Fuoco, tranne Decatron, tutti si possono evocare dalla mano, andando a bandire un certo numero di Infernoide da mano o Cimitero, e per quelli più grossi, quindi da Siete a Onuncu, anche dal Cimitero si possono evocare. Tutti quanti hanno un effetto rapido che si attiva andando a tributare un mostro, nel caso dei piccoli l'effetto rapido è solamente attivabile nel turno del nostro avversario, che è tributare un mostro per andare a bandire una carta dal Cimitero. effetto condiviso con anche i Medi, ma i Medi possono attivarlo nel turno di qualsiasi giocatore come effetto rapido. Deviati Onuncu, invece, va a negare mostri e Onuncu va a negare l'attivazione di Magire Trappole. Attenzione, attivazione di Magire Trappole o loro effetti. Entrambi negano e bandiscono, non vanno solamente a negare. In più, tutti gli Infernoid hanno un effetto non rapido. Quello dei piccoli si attiva targettando una carta di un certo tipo e poi risolve l'effetto. Quelli dei grandi, scusate, dei Medi si va ad attivare durante la battle, quindi quando distruggono un mostro in battaglia. E quello dei boss monster si attiva quando entrano sul terreno. Vediamoli nel dettaglio. Antra, targettando una carta sul terreno, la rimbalza in mano e basta. Armadick, targettando un mostro, lo va a distruggere e quindi rinuncerà all'attacco per il turno, perché Armadick non può attaccare nel turno in cui attiva l'effetto. Stessa cosa Patroulea, ma Patroulea lo fa con Magie Trappole. Siete, Seitzma e Seatondel fanno qualcosa quando attaccano. Siete, quando distrugge un mostro in combattimento, va a bandire una carta dall'extra deck del nostro avversario a sua scelta. Seitzmas va a bandire una carta dal terreno senza targettare. Atondel può effettuare un secondo attacco durante il turno. Deviati e Onuncu. Deviati, quando entra sul terreno, distrugge tutte le Magie Trappole, eccetto quelle Void. e Onuncu, quando entra sul terreno, distrugge tutti gli altri mostri sul terreno. E rimane Decatron. Che cosa fa Decatron? Decatron, oltre ad essere l'unico infernoid che può essere evocato normalmente, perché tutti gli altri non possono essere evocati normalmente, possono essere evocati solo specialmente per il loro effetto, e solamente se il livello complessivo di livelli e ranghi di mostri con effetto che controlliamo è pari o inferiore a 8. Quindi, se ad esempio controlliamo Deviati, che è già a livello 9, non possiamo neanche provare ad evocare altri infernoid, eccetto Decatron, che possiamo evocarlo normalmente, ed è l'unico che può essere evocato normalmente. Decatron è anche l'unico ad essere un tuner, e quando viene evocato normalmente o specialmente, possiamo mandare un mostro infernoido dal deck al cimitero, eccetto se stesso, ovviamente. Se lo facciamo, aumentiamo il livello di questa carta, del livello della carta mandato, e ne copia effetto e nome. Quindi Decatron ci permette di giocare dei sincro, innanzitutto nel mazzo, anche se in realtà non è la strategia principale del mazzo. E in più ci permette di mandare tutti gli altri e copiarne gli effetti. Quindi se mandiamo Deviati di Decatron, Decatron otterrà l'effetto di tributare un mostro sul terreno per andare a negare l'attivazione dell'effetto di un mostro e andarlo a bandire. Bene, e questi erano tutti e soli gli infernoido che giochiamo. Giochiamo 15. Altre mostre che giochiamo, Going Second, giochiamo 3 Psyframe Gear Gamma e ovviamente un Driver. Unica Entrop che giochiamo perché Gamma non può essere evocato normalmente, quindi siccome noi vogliamo usare carte come Monster Gate e Reasoning non ci va in conflitto. L'unica altra carta che può essere evocato normalmente è Pilota, ma essendo un mostro normale non va in conflitto con le condizioni di evocazione degli Infernoid. E questo è tutto per i mostri. Passiamo alle magie e trappole. Come carte Going Second, diciamo altro engine, giochiamo 3 Tana dell'Oscurità, 3 Monster Gate e un Reasoning. Perché 3 Tana dell'Oscurità? Beh, tutti gli Infernoid hanno un effetto rapido che si attiva tributando un mostro. Grazie a Tana dell'Oscurità potremmo attivarlo tributando i mostri dell'avversario. In più, potremmo tributare un mostro dell'avversario per attivare Monster Gate che ci permette di mandare gli Infernoid al cimitero in modo da poterli bandire per specialarli e ci permetterà di evocare specialmente Decatron o, alla peggio, Driver se proprio siamo sfortunati. Stessa cosa con Reasoning. L'unica carta che può essere evocata normalmente le uniche due carte che possono essere evocate normalmente sono Driver e Decatron. Se l'avversario sa cosa giochiamo, al massimo dice uno ma anche mandarci Decatron al cimitero non fa schifo. Poi, carte di archetipo, giochiamo il Treperdi, Scomparsa del Vuoto il Treperdi, Immaginazione del Vuoto e, come trappola, una copia di Banchetto del Vuoto. Queste sei carte sono fortissime da sole risolvendo Immaginazione abbiamo vinto. Se, giuro, risolvendo Immaginazione non possiamo praticamente perdere. Ma, vabbè. Scomparsa, su attivazione, non fa nulla. Se sono tutte e due magie continue su attivazione non hanno particolari effetti. L'effetto di Scomparsa è che possiamo scartare una volta per turno una carta qualsiasi per raggiungere una carta magia o trappola del Vuoto eccetto se stessa e Vuoto della Vanità. Le Vanità Emptine sono un po' troppo forti. Vabbè, questo è Lost in Translation. Però, vabbè. In più, ha un... Non possiamo evocare normalmente o specialmente mostri per il resto di questo turno eccetto Mostra Infernoid e possiamo utilizzare l'effetto di Scomparsa del Vuoto solamente una volta per turno. In più, se un Mostro Infernoid che controllo combatti con un Mostro dell'avversario dopo il calcolo dei danni possiamo mandare questa carta al cimitero per bandire entrambi i mostri. Questo può essere utile per liberarci di... Che dire... Dragoon, per esempio? No, vabbè, ma è un esempio, è un esempio, è un esempio. Immaginazione del Vuoto, invece, è la nostra carta Fusione. Ma non solo. Anzitutto, finché sul terreno tutti i nostri Infernoid che controlliamo di livello originale 2 o superiore diventano di livello 1 e tutto il danno da combattimento che infliggerebbero al nostro avversario viene dimezzato. In più, possiamo mandare questa carta al cimitero per evocare tramite Fusione un Mostro Fusione Infernoid dall'Extra Deck utilizzando mostri da mano o terreno come materiali da fusione. Ma, se il nostro avversario controlla mostri evocati specialmente dall'Extra Deck fa come Shadow Fusion quindi possiamo usare fino a 6 materiali dal nostro mazzo. Perché? Perché la carta Fusione che andiamo a evocare che è Infernoid Terra richiede uno o più Mostro Infernoid e attiva effetti in base al numero di Infernoid che abbiamo utilizzato come materiali da fusione. Usando praticamente fino a 6 materiali possiamo sostanzialmente attivare i primi due effetti ma poi vedremo nello specifico che cosa vogliamo fare. Poi, essendo questo un going second giochiamo solamente Mono Banchetto del Vuoto che possiamo usare come come recovery card per il terzo turno essendo una carta appunto trappola come attivazione possiamo mandare di costo una carta Magia o trappola vuoto dalla mano scoperta dal terreno al cimitero per evocare specialmente dal deck fino a 3 Mostro Infernoid con livello totale esattamente pari a 8 ignorando le condizioni di evocazione quindi indipendentemente da quello che abbiamo sul terreno possiamo andarli ad evocare di Banchetto del Vuoto Not Bad Poi vediamo un po' altre carte che ci aiutano per il going second abbiamo ovviamente tre pot off extravagance perché pescare due in sto mazzo è rotto tre droplet perché non vogliamo perdere e infine due storm già così siamo a 41 se giocassimo una terza storm saremmo a 42 è un po' tantino ovviamente se non volete giocare a queste due carte ci sono soluzioni alternative possiamo giocare Dark Ruler No More possiamo giocare Spolverino insomma ci sono altre carte che potremmo buttarci dentro per restare un po' più nel budget questo era tutto per il main deck vediamo molto molto rapidamente l'extra deck ora essendo un mazzo che gioca extravagance avremmo ovviamente un extra deck che diciamo punta a non farsi bandire tutti i target da extravagance quindi tre tierra tre unz un omega perché se ne può giocare solo uno e poi da qua diciamo che sono un po' di utility quindi io gioco un Chaos Ruler un Link Uribo un Gravity Controller due bari Kailboard Broker un Alky Fibrax che possiamo portare a due e due Equimax per la combo TK che poi vi spiegherò allora vediamo un attimo l'unica carta che qui è un po' strana ovvero inferno di tierra cioè un po' strana nel senso che è il mazzo perché tutto il resto bene o male la conoscete allora tierra che ha un'immagine bellissima ha un effetto che cioè guadagna effetti in base al numero di mostri utilizzati per la sua fusione a meno che non andiamo a overextendere buttando roba dalla mano quindi per arrivare fino a dieci materiali ok normalmente avremo tre e cinque ovvero con tre o più materiali ogni giocatore manda tre carte dall'extra deck al cimitero a nostra scelta cioè anche l'avversario sceglie per sé ovviamente e con cinque o più andiamo a millare le prime tre carte del nostro deck con otto o più ogni giocatore fa tornare fino a tre carte bandite al cimitero e con dieci o più ogni giocatore manda tutta la mano al cimitero ovviamente otto e dieci otto sarà molto difficile attivare dieci no non lo facciamo che cosa mandiamo ovviamente mandiamo hens e mandiamo omega hens spacca omega ricicla va bene lo sapete basta non serve spiegarlo però tier è a livello dodici quindi ci rompe le balle per evocare gli altri infernoid e quindi giochiamo gravi controller per linkar via tier se lo facciamo nella zona mostro extra per poi andare a continuare a giocare da quegli altri infernoid che abbiamo mandato al cimitero perché richiede sicuramente onunque deviati perché i materiali minimi sono onunque deviati e almeno un altro se riesco a metterlo a fuoco ecco onunque deviati e uno o più infernoid ok poi vabbè omega riusciamo a farlo anche tranquillamente perché abbiamo un tuner che è decatron e ovviamente driver e gamma stessa cosa per pepegaruller pepegaruller milla 5 e se becca un gamma abbiamo pure passato barricade blocker ci rende immune intergettabili le nostre magie continue e la nostra terreno e volendo possiamo siccome usiamo tante carte che vanno a millare possiamo recuperarne una in end phase dal cimitero alkyfibrax ci porta un un tuner dal deck per poi fare equimax ecco vi devo spiegare un attimo equimax allora equimax ci fa fare quella che io prima ho definito una combo tk ok però è una combo un po' stupida in realtà perché va bene mettiamo che abbiamo equimax ok abbiamo risolto una per esempio una void imagination quindi al cimitero abbiamo un po' di roba ok ci basta riportare 6 zemass e attondel ok quindi magari partiamo prima 6 zemass così siamo 7 attondel 8 a parte che è uguale perché tanto basta non superare l'8 ok e siamo in questo modo equimax guadagna l'attacco dei mostri puntati ok in questo caso sono un 2006 e un 2008 e lui è un 2000 di suo si 7.4 giusto si 7.4 so fare i conti ok quindi lui è un 7.4 picchia però poi loro non possono picchiare però attenzione entrambi hanno l'effetto rapido di tributare un mostro per bandire una carta al cimitero e quindi adesso questi possono attaccare siamo sopra i 10.000 di danno e quindi siamo forti e questa era la combo di K bene questo era tutto per il per il video di oggi in questo caso forse avrete notato le bustine dell'extra che sono un po' diverse sono bustine di Exodia Toon che ho preso da Orica Shop sono ovviamente custom made e la oversleeve in questo caso è una semplice dragon shield clear classic formato carta occidentale formato magic per intenderci ok mentre invece le sleeve del main sono sempre le ultimate guard katana io vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo al prossimo video ciao